Cari amici sono Pai. Ultimamente il capo di stato cinese Xi Jinping ha avuto un incontro in videoconferenza con i leader europei, tra cui il presidente della Commissione europea von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Michel e anche la cantillera tedesca Angela Merkel. L'incontro ha suscitato anche qualche attenzione da parte degli studiosi italiani. Sentiamo subito il commento di Stefano Porcelli dell'Università degli Studi di Brescia. Lo scorso 14 settembre c'è stato un incontro in videoconferenza tra il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ed alcuni dei leader delle istituzioni europee. Nello specifico la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente Michel del Consiglio europeo e la cancelliera tedesca Merkel nelle vesti di presidente di turno dell'Unione. Nell'incontro si è discusso di questioni attinenti al come fronteggiare le sfide che vengono poste dal Covid. Il presidente cinese ha suggerito l'importanza di un approccio che vada a rafforzare la convivenza pacifica, il multilateralismo, l'apertura. Così come poi si è espressa l'intenzione di riuscire entro la fine dell'anno a portare a termine le trattative per il bilateral investment treaty tra Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese, trattative che, data anche la delicatezza dell'argomento, si protaggono ormai da anni. Ancora, restando a temi specifici, importantissimo è stato il raggiungimento dell'accordo sulle indicazioni geografiche, accordo che, salvo imprevisti, dovrebbe a questo punto entrare in vigore agli inizi del prossimo anno. Nell'accordo è prevista la protezione di 100 denominazioni cinesi in Europa e cento europee in Cina, così come è previsto che nel corso dei prossimi quattro anni a queste cento se ne aggiungano altri 175. Tra le cento denominazioni cinesi possono annuverarsi l'anji bai chai, il kuar chai ed altre varietà freggiate di tè, così come le cosiddette bacche di goji, delle varietà di riso, di cuori come c'è la prima otaia o unianie e per quanto riguarda le europee, invece, bisogna riconoscere che la parte del leone l'abbia fatta l'Italia con ben 25 denominazioni. Tra queste, soltanto per menzionarle alcune, Brunello di Montalcino, Franciacorta, Parmigiano-Reggiano, Mozzarella di Bufala-Campana ed altre. Chiaramente si tratta di un accordo molto importante considerando anche le peculiarità dell'economia italiana, andandosi così a rafforzare la tutela di questi prodotti di eccellenza italiana in un mercato come quello cinese, che ha appunto delle dimensioni più che considerevoli e dove nel corso degli ultimi anni sta crescendo sicuramente l'attenzione rispetto a questi nostri prodotti di eccellenza e quindi così se ne va ad assicurare ancora di più la protezione con esiti ci si auspica molto positivi per il futuro.